Tra i sottoscrittori del protocollo d'intesa sulla sicurezza sui luoghi del lavoro ma non solo, ovviamente il direttore dell'INAIL di Caserta, Alfonso Cangiano, direttore di una collaborazione col comune di Caserta che è solo una prima tappa per avviare un percorso sul fronte della legalità. Hai detto bene, un protocollo quadro che ci serve poi per mettere in atto una serie di iniziative concrete che vogliono essere tutte quante finalizzate ad ottenere un costante intervento riduttivo negli infortuni sia mortali purtroppo perché ce ne sono circa una ventina nella nostra provincia, sia di quelli che comunque mortali non sono e che arrivano a circa 3.000 casi annui. Un numero che è in costante ma lento miglioramento e che tuttavia risente ancora di un dato che è comunque avvisabile in tutte queste attività, vale a dire una mancanza di informazione. Noi molto spesso siamo costretti a rilevare che l'infortunio è derivato da una minima disattenzione, minima disattenzione che partiva però da una assoluta mancanza di comunicazione data al lavoratore e non è neanche sempre come si può ritenere forse errando colpa del datore di lavoro, non c'è neanche talvolta la volontà del lavoratore di acquisire questo tipo di informazione. Perciò noi puntiamo sui giovani, sul territorio perché insieme si deve fare cultura per la prevenzione e cultura significa farla propria questa esigenza di sicurezza. E' il primo tassello come dicevamo prima, le prossime tappe del progetto? E' il primo tassello, è il protocollo quadro e io stavo pensando, ne parlavo anche con Pio del Gaudio, ad una cittadella della sicurezza. Una cittadella della sicurezza che per me può avere un luogo cardine in una biblioteca. Cioè non c'è a mio avviso nulla di meglio di individuare quella che è la fonte laica della cultura di ogni città, di ogni unione che una biblioteca, nulla di meglio di una biblioteca per diffondere la cultura. Potrebbe essere un luogo seminariale, potrebbe essere il luogo in cui coinvolgere sia datori di lavoro, sia istituzioni, sia imprenditori, sia lavoratori, sia scolari, per convincerci tutti quanti che è meglio stare un'ora insieme a parlare di questi problemi per evitare poi di doverne affrontare altri quando gli eventi si verificano.